Prima di concludere il concerto con gli ultimi due brani, voglio ringraziare innanzitutto voi per il calore con cui ci siete stati ad ascoltare. Il comune di Senigallia che ha organizzato queste manifestazioni ed ha lasciato spazio anche alla musica jazz. Il prossimo appuntamento è l'11 agosto, in questa piazza forse con il market Jazz Quinter. Vi presento di nuovo i musicisti che hanno suonato questa sera, Rodolfo Varani al sax contralto, Andrea Conti alla chitarra, Paolo Cassisa al vibrafono, Amedeo Griffoni al percussione, Roberto Ciulito al contrabbasso e Massimo Manzi alla batteria. Gli ultimi due brani che suoniamo questa sera sono il primo sentito La Saudade di Walter Booker e l'ultimo è un altro omaggio al grande Charlie Parker, un blues di sua composizione, il famoso Billy's Bounce. Grazie e buonanotte a tutti. Grazie 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 a tutti.